Ciao a tutti, vediamo in questo video perché un uomo scappa da te. Perché molte donne hanno questa cosa che dicono tutti gli uomini scappano, tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale la pena e allora è importante capire quali sono i comportamenti che mettono in fuga gli uomini, quali sono i comportamenti che li fanno scappare da te. Prima però iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco, attivando la campanella così riceverai la notifica di nuovi video e ovviamente sul canale potrai trovare tantissimi video, circa 24.000 su varie tematiche che contribuiranno a migliorare la tua crescita personale, ma ci sono anche gli altri miei canali, crescita personale, felicità benessere, amore autostima, sempre di YouTube che ti puoi iscrivere. E allora, veniamo, che cos'è che fa scappare gli uomini da te? Che cos'è che mette in fuga gli uomini? È importante scoprirlo perché altrimenti continuerai a reiterare certi comportamenti che per te saranno istintivi poi, cioè sembreranno comportamenti normali che però di fatto faranno scappare gli uomini, che però di fatto metteranno in fuga gli uomini. Ecco, quali sono questi tipi di comportamenti? Che cosa va fatto, diciamo, per evitare che queste persone fuggano, che queste persone scappino? Ci sono diverse tipologie di attività, di comportamento che possono mettere in fuga gli uomini. Intanto devi tenere presente un fatto fondamentale che, ed è questo un fatto fondamentale, non è che le persone si comportino in modo standard, ma si comportano, esiste sempre un'interazione, cioè una persona si comporta con noi in un certo modo in funzione anche di come noi ci comportiamo con quella persona. Altrimenti se le risposte fossero sempre standard, diciamo che ci sarebbero persone che ad esempio non si innamorerebbero mai, altre che si innamorerebbero sempre. In realtà di qualcuno ci innamoriamo, di altri non ci innamoriamo, perché l'innamoramento dipende molto dal tipo di comportamento che una persona mette in atto. Siccome noi non possiamo gestire il comportamento degli altri, diventa difficile gestire il comportamento degli altri, però possiamo gestire il nostro comportamento. Quindi se non vuoi far scappare gli uomini, devi imparare ad avere un comportamento che sia un comportamento che attiri gli uomini, anziché farli fuggire. Cambiare il tipo di comportamento diventa fondamentale, diventa una cosa veramente importante. E quindi che cosa puoi fare per evitare, diciamo, che questi uomini fuggano? Cosa puoi fare per evitare che questi uomini scappino? Beh, ci sono diverse cose che puoi fare. La prima cosa che puoi fare sicuramente è quella di, diciamo, evitare di mandare tanti messaggi, evitare di essere super appiccicosa. Quella di mandare 250.000 messaggi? Perché nel momento in cui mandi 250.000 messaggi, gli uomini scappano, gli uomini se ne vanno da te. Perché, come dire, ti danno per scontata, ti danno per acquisita, non hanno più interesse, diciamo, alla conquista. Un uomo ha interesse alla conquista fin tanto che non ha la certezza. E quindi, anche per caso, in una relazione che fosse a lungo termine, non devi mai e poi mai fargli capire al 100% che sei innamorato di lui. Magari al 70%, magari al 50%, ma mai al 100%. Un'altra cosa che mette in fuga gli uomini è mettere dei vincoli, e mettere dei vincoli, diciamo, mettere dei vincoli logici prima di aver acquisito il potenziale. Cioè, se tu incontri un uomo e gli dici subito, ah, io voglio tanti bambini, voglio avere dei figli, beh, quello scappa, di sicuro, perché non è ancora il potenziale. Oppure incontri un uomo e gli dici, io voglio il matrimonio, vado a ricercare il matrimonio. Quello scappa, di sicuro, perché sono vincoli logici, no? Questo è, diciamo, questo è un qualcosa che devi tenere presente. Mai mettere dei vincoli logici. Oppure quelle che ti dicono, ah, io voglio solo una storia seria. Ma non devi dirlo subito. Nel momento in cui tu gli dici, io voglio solo una storia seria, beh, non devi, è ovvio che. Poi ci sono quelli che, ad esempio, uomini che ti tengono lì, anche lì devi prendere atto che in qualche modo devi cambiare il comportamento. Cioè, se uno ti dice che ti ama, ma poi non fa niente per dimostrare che ti ama, significa di fatto che ti pigli in giro. È l'unica cosa che significa di fatto che ti pigli in giro. Non ha nessun altro significato. E questo devi tenerlo presente, no? Quindi noi dobbiamo guardare i comportamenti, non stare a sentire quello che un uomo dice. È fondamentale questo. È molto importante guardare quello che fa, non ascoltare quello che dice. In questo caso il canale visivo è più importante. Osservare i comportamenti. Perché ti amo, posso dirlo anch'io a chiunque, no? Ciao, ti cara, ti amo, ti amo tantissimo. Costa niente. Anzi, è una parola che viene fuori facilmente. Ti amo, dei sentimenti per te, ti amo tantissimo. Ma se poi a questi, diciamo, se poi a questi, come possiamo dire, a questi comportamenti, a queste parole non seguono dei fatti, è evidente che non ci può essere nessun tipo di contatto. E se tu, diciamo, continui a fare l'appiccicosa e non ti distacchi, magari non lo metti in fuga, ma lui non si sbilancerà mai, non farà nient'altro. Quindi mai mettere vincoli logici, mai parlare dei tuoi problemi. Mai parlare dei tuoi problemi se non hai già potenziale. Ci sono donne che iniziano a raccontarti le loro miserie. Eh, sono stata licenziata. Eh, sono senza soldi. Eh, non riesco a pagare l'affitto. Eh, ho tre bambini da mantenere e non so come fare ad andare avanti. Eh, qua e là. Se tu inizi a spiattellare quelli che sono i tuoi problemi, appena hai conosciuto un uomo, ma questo si fa il segno della croce e se ne va via. Va all'URD quando sei allontanato da te. Perché o è già innamorato di partenza e allora se è già innamorato di partenza, se non è già innamorato di partenza, non ha nessun senso. E poi chi chiede, tieni presente che chi chiede è perdente. Chi chiede è perdente. Se tu non puoi chiedere a un uomo, ah, io vorrei una convivenza, un figlio. Ma quello sparisce, si allontana. Tu devi attrarre, non devi stare lì a, diciamo, non devi stare lì a inseguire. Devi attrarre. Attrarre vuol dire che devi allontanarti, devi creare una sorta di vuoto. E queste sono tutte cose che non vanno sviluppate. Se parli dei tuoi problemi, anche lì, parli dei tuoi problemi, ma perché uno dovrebbe stare con una piena di problemi? Spiegatemelo. Cioè se c'è un uomo, se è già innamorato, allora troverà utile, gli farà piacere, può aiutarti a risolvere i problemi. Ma se tu non hai a che fare con una persona, diciamo, che ne incontra un'altra e inizia a dirti, e inizia a dirti, ah, c'ho questo problema, c'ho quest'altro, e tu te ne vai, perché, come dire, chi ha voglia di sobbarcarsi i problemi altrui? Nessuno. Poi c'è tutta la cosa delle persone, altra cosa che non bisogna accettare. Se una persona è già impegnata, tu non devi dargliela, non devi fare niente. Cioè devi solo attendere che faccia dei risultati. Vuoi vedermi? Bene, lascia la tua moglie, lascia la tua fidanzata, altrimenti fuori dai maroni. Perché se tu accetti, diciamo così, di entrare come amante, o accetti il ruolo di amante, e ti sta bene quello. Ma l'errore che fanno molte donne è accettare un ruolo di amante, non di amante, nel senso di amante, di trattino amante, accettare un ruolo di amante senza, diciamo, avere, senza essere consapevole che quello sarà il ruolo, che non puoi sperare che questo ruolo poi possa diventare qualcos'altro. Assolutamente non puoi sperare che possa diventare qualcos'altro. Se tu entri come amante, devi essere consapevole di far l'amante. E non devi cambiare. Altro comportamento che mette in fuga gli uomini è il comportamento stalkerizzante. Cioè, quelle che continuano a mandare messaggi a cui non ricevono risposta. E questo è un'altra cosa da evitare di fare. Non puoi continuare a mandare messaggi se dall'altra parte non ti risponde. Ci sono persone che dicono, ma gli ho mandato cinque messaggi, non mi hai risposto. Guarda, quasi quasi gli mando il sesto perché non vorrei che i primi cinque fossero andati persi. Ci sono anche persone che fanno questo ragionamento qua. Se uno non ti risponde ai messaggi, non devi continuare a insistere come una sanguisuga, come una piattola, diciamo, che si appiccica. Se uno, tu mandi un messaggio, se la persona ti risponde, ti risponde, eventualmente. Se no, non ne mandi altri. Non puoi continuare a insistere a mandare plettore di messaggi alle quali l'altra persona non ti risponde e tu continui a insistere. È fondamentale questo. Eppure ci sono persone che continuano. Cioè, passi per una bisognosa, passi per una mentecatta, diciamo, una mendicante d'amore. Allora, tieni presente che i mendicanti d'amore i mendicanti d'amore saranno, moriranno di fame. Non devi, in amore devi essere un'imperatrice, non una mendicante. In amore devi essere una patrizia, non una plebea. E questo è fondamentale, no? Se una persona non ti risponde, non devi più scrivergli. Punto. Fintanto che non ti scriverà lui. Eppure ci sono persone che continuano a scrivere, continuano a fare. Questo è un modo per allontanare ancora di più le persone. Quindi evita assolutamente di essere stalkerizzante. Viene percepita come stalkerizzante, viene percepita come una rompipalle. D'altra parte, diciamo, bisogna tenere presente la libertà, no? Delle persone. Inutile insistere con qualcuno che ti stai rifiutando. L'unica cosa di positivo che c'è sulla faccia della Terra è che siamo 8 miliardi di persone. 8 miliardi di persone e, diciamo, 8 miliardi di persone, queste 8 miliardi di persone hanno, diciamo, ne troverai un'altra. Se quella lì, per qualche motivo, qualunque sia il motivo, ma non ha senso, andare a chiederti qual è il motivo, qual è la cosa. Se una persona non ti prende in considerazione, non importa, devi chiudere la situazione, devi chiudere comunque la situazione. andare a vedere, perché, a meno che tu non abiti in cima al Monte Everest, diciamo così, dove magari non c'è molta gente, in qualunque città tu abiti, in qualunque città tu abiti, tu puoi trovare sicuramente delle persone. Ci sono persone che dicono, ah, non riesco a trovare la persona giusta, ma dove abiti? Milano, Roma, Genova, Torino. Cioè, è evidente che in quelle città lì ci saranno un sacco di persone che possono andare bene per te. Questo è fondamentale. Poi, un'altra cosa da evitare di fare, devi evitare di fare, che lo metti in fuga, essere onnipresente sui suoi social media. Se tu sei onnipresente, vai a scrivere e ogni cosa che fa vai a scrivere, vai a rompergli i coglioni, diciamo così, in tutti i social in cui lui interagisce, è ovvio che diventi una rompipalle e si allontanerà da te. Perché, come dire, diventi sempre... Oggi che interagiamo molto con i social, se tu sotto ogni fotografia Instagram vai a scrivere qualcosa, se tu sotto ogni post su Facebook vai a scrivere qualcosa, ogni video postato su TikTok vai a scrivere qualcosa, per dire... Cioè, è evidente che questo si rompe i maroni e si allontanerà. È evidente. Devi... Non puoi essere onnipresente nei suoi social. Altra cosa, non devi essere bisognosa. Essere bisognosi... Essere bisognosi fa scappare gli uomini. In amore non è detto che vince chi fugge. In amore vince chi seduce. Che non è detto che bisogna fuggire. Non è detto che bisogna fuggire sempre. Io non ho mai detto questo. Perché a volte bisogna dare e togliere. Dare e togliere. Avvicinarsi e allontanarsi. Bisogna dare un po' di disistima e bisogna dare un po' di stima e considerazione. Cioè, la nostra mente è duale. Ha bisogno del verso e dell'inverso. Non puoi dare sempre una cosa. Se dai sempre una cosa, non seduci. Quindi è sbagliato il detto in amore vince chi fugge. È giusto il detto in amore vince chi seduce. E seduce chi sa gestire le emozioni degli altri. Saper gestire le emozioni, saper dare al momento giusto, è fondamentale. Saper invece dare nel momento sbagliato, è una cosa sbagliata. Quindi una cosa importante è sapere interagire nel modo giusto con la persona, sapendo dare le emozioni giuste. Essere bisognosi è un altro modo per far scappare le persone. Se tu sei bisognoso o sei bisognosa, se tu in qualche modo dimostri di essere dipendente da una persona, è certo che questa scapperà. Perché quale uomo, diciamo, ha bisogno di una donna piccicosa bisognosa? Certo, qualcuno ci sarà, perché comunque c'è spazio per tutti. Chi ha la sindrome da crocerossina, da crocerossino, si aggancerà su persone bisognose. Ma si tratta comunque di uomini insicuri. E se tu vuoi avere un uomo sicuro di sé, un uomo che sappia quello che vuole, non devi presentarti come bisognosa. E un'altra cosa che devi evitare di fare, che metti in fuga gli uomini, è praticamente diventare anche gelosa. La gelosia poi è un abbagliar di cani che tiri ladri. Se sei gelosa farai scappare. Quindi se segui queste indicazioni, è molto meno probabile che gli uomini scappino da te. Se invece li metti sempre in fuga, se invece gli uomini scappano comunque, è perché probabilmente non sei riuscita a gestire il tipo di comunicazione, il tipo di comportamento. Quindi è molto importante cambiare il comportamento. E' molto importante per questo modo cambiare il comportamento. Ripeto, se poi cambiando tutti i comportamenti, mettendo in atto tutte le strategie, noti che comunque questa persona non ti dà quello che vuoi, noti che comunque questa persona non si pone, diciamo, complementare le tue esigenze, cambi persona. Perché non puoi sperare di cambiare un uomo. E' molto più facile cambiare uomo che sperare di cambiare un uomo. Se tu fai la gelosa, ti faranno le corna. E' evidente che ti faranno le corna. Perché c'è proprio una legge quasi universale, che se tu cerchi in modo, se tu cerchi in modo coercitivo di bloccare una persona, questa reggerà compulsivamente al contrario. Cioè, se una persona dice non devi far questo, non devi far quell'altro, non devi vedere questo, non devi vedere quello, non devi far quell'altro, quello farà tutte le cose che tu cerchi di evitare e di farli. Tenete presente che negli Stati Uniti, negli anni 20, mi sembro 30, comunque nel periodo del proibizionismo, quando si cercava di proibire il consumo d'alcol, c'è stato il più grande consumo d'alcol della storia degli Stati Uniti. Dovuto al fatto proprio che le cose proibite attraggono. Quindi nel momento in cui tu fai la gelosa, ma d'altra parte, questo sta già scritto nella Bibbia, no? La famosa mela della Bibbia, il frutto proibito attrae di più. Il frutto proibito attrae veramente di più. Quindi non c'è verso. Cioè, se tu continui a fare la gelosa, verrai cronificata. E poi metterai in fuga anche l'uomo, perché da un punto di vista emotivo ti farà le corna. Da un punto di vista logico non vorrà una rompicoglioni che gli dice quello che deve fare e quello che non deve fare. Quindi evita di fare queste cose, fai le altre cose, vedrai che non scapperanno gli uomini, o perlomeno ne scapperanno di meno, insomma. E quindi tu potrai, come dire, trovarti a altre situazioni eventualmente. Bene, e ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube Massimo Terramasco, iscriviti al mio canale YouTube Crescita Personale con Massimo Terramasco e felicità e benessere. E su questi canali, diciamo, a cui ti iscriverai, attivando la campanella così riceverai la notifica di nuovi video, ci sono più di 20.000 video. Solo sul canale Massimo Terramasco ci sono più di 23.000 video su tutte queste tematiche che potrai approfondire tranquillamente. Quindi iscriviti al canale. Ciao!